salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di kingdom earth bellissimo la serratura è bloccata fantastico c'è uno stigno davanti agli occhi ovviamente la creatura è bloccata mi sembra tanto giusto e quindi non ci posso fare un cazzo non schiaffi lì ci denti o salve school lei è non mi ricordo più ho sentito che il creme dopo aprire qualsiasi serratura prova ad usarlo quando troverai un fortiere o una porta chiusa ecco e io che cazzo ho fatto scusate non è che voglia dire a elisir perfettico fuori da questa città è pericoloso non girovagare troppo ok ci vado dopo quindi non riuscire a non mica capito scipette school tu sei la quindi non posso andare quindi vado di qua col cazzo mi hai risposto benissimo vado di qua non ho capito un cazzo di quello che hai detto e diciamo che cazzo devo fare parla con te parliamo con te presto o tardi gli earthler se ti troveranno devi essere pronto pronto a combattere per la tua vita sei pronto? sceldo pronto affi yuffi raggiungiamo a riet no a riz a riz non so come si pronunci dovrebbe essere di là con gli altri visitatori leon o salve vai va bene ah proprio da fuori la finestra e il paperino è diventato il piattellino beh dai carino con la bocca aperta poi c'è le mosche non preoccuparti troppo dei pesci piccoli trova il capo andiamo perché devo trovare il capo sicuro che mi devo preoccupare dei pesci piccoli e sono tanto carini i pesci piccoli ti danno tanti punti tante cose a me non mi dispiace affatto fare un po' di punti livellare insomma faccio i denti scusate c'è uno schieno dietro con le casse ho visto ok perfetto questi danno anche di più perché non mi dovrei preoccupare dei pesci piccoli scusate danno anche di più eccoci qua io qua salve ho visto che c'è qualcosa di carino vai vai stacca del culo la fai? benissimo mi fa tanto piacere allora stavo dicendo ho visto oh salve lei è molto bello sa ho ottenuto pozione beh sono contento si può andare da qualche altra parte qui fatemi vedere non vedo un ca... oh che bella cosa vediamo un pochino come si lancia si lancia ok poi altro solleva vediamo un po' non lo so eh provo eh perché c'è cosa mi devo dire più di così questo non si può sollevare scusate aspetto il pulsante ma perché si è rotto? ah non mi fai salire? ho fatto salire ecco splendide pietra beh se è splendida è meglio no? oh salve non se la prenda non è niente di grave vediamo se c'è qualcos'altro qua oplà vedo qualcos'altro in lontananza perfettico quanto odoro ste cose perché l'esplorazione paga perché quando pagano sono sempre felicio ma stai adesso arrivo un attimo solo ecco vediamo hai tenuto posione beh li ho venduti tante questa cosa devo cambiare i pulsanti assolutamente al prossimo lo cambio la stanza rossa ok oddio ho fatto pagare in mano voi siete piccoli quindi è facile da ammazzare insomma andiamo 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 tutti oh vai guardate che c'è una sorpresa qui il signor Atlas non si mette sul letto però non è evocato eh insomma eccoci qua splendide pietre si è splendide ste pietre la stanza verde ah sono uscito non volevo uscire volevo vedere sta stanza verde com'era insomma abbastanza verde oh cazzo ho stato fatto il colpo eccoci qua qui già ci sono persone più cattive più forti ok ma poca miseria sono proprio forti come on come on spaccoli tutto una cannonata vedete che passa a tutti insomma eccoci qua perfettico e questo è dove eravamo interessante quindi adesso rilassata il corridoio rilassata sul letto un attimo solo che volevo vedere questo una volta alle 18 il tempo veloce come il vento non ho capito un cazzo vabbè oh ma che cavolo non me l'aspettavo una cosa del genere insomma eccoci qua effetti un attico ma scusi non per cattiveria ma insomma neanche per culo di età ok prendiamo andiamo via intanto abbiamo visto tutto quello che doveva vedere però c'è un altro schigno che vorrei tanto prendere se ci riesco eh perché qui eh ma quanto siete brutti voi siete anche tanti ok come on come on come on oppla basta non posso parlare anche io perché chiedo non è mica giusto che non ci parino io no allora qui dovremmo cercare se si può fare una roba così non lo so chiedo eh perché insomma ecco me lo lancio ok devo capire scusate per me non è semplice ok un po' più in alto quindi solleva e bisogna vedere se funziona perché prima non ha funzionato molto bene allora proviamo a fare l'inverso il barile magari più è più potente ok sali ma dove cazzo ok no mi sento vittorio ma allora sembra che due una soppalata non funzioni no e quindi non ci posso fare molto vabbè pazienza dispiace più di così non posso farci qui non posso salire a questo punto me ne vado cosa vuoi che faccia qua siamo entrati no non mi sa votare di stretto giusto magari qualche doveva il pesce grosso questi sono grossi sono grossi sono fesci eccidenti ma avete un po' rotti quelli che ci dite loro cos'è sta roba insomma non vedo cazzo ok ok aia mi stanno facendo tanto male lo sai ok vediamo un po' di roba da mangiare piscino ci diciamo una merda ok ok andata eh cavolo allora si proteggono non è mica giusto io non posso proteggermi se si non so come che lo ve l'ho ancora spiegato ok vai perfettico prendiamo tutto balla che c'è no qua rimaniamo senza vita ok allora dobbiamo trovare il pesce grosso adesso il pesce grosso devo capire che dov'è perchè non è che sia tanto semplice max livello ok se livello dove dobbiamo venire potenza in teoria mi piacerebbe comprare il coltore di ossidiana così almeno ci aumenta un po' la potenza inalata e magari scoppiamo come parare o evitare un colpo perché sarebbe a quanto carino da parte loro spiegarmelo ok eccoci qua quindi andiamo a vedere oh ma lì sopra c'è qualcosa interessante porta porta spacca tutto vai vai iaia chi dinti dai quando vanno sotto terra è così non prenderli ecco qua che miseria oddio quanti gli arrivano sono troppo troppi sapete ok benissimo benissimo così almeno li abbiamo ammazzati un po' quanta roba c'è ok abbiamo fatto il pieno oh adesso basta però mi mette veramente scocciato allora stavo dicendo che dobbiamo andare provo ad andare di qua perché idea ecco chissà chissà dove sarà pesci grosso vai aia alla schiena fa male mi taisho ma c'è un po' vero vecchiato oh collana protection ma vediamo se abbiamo preso qualcosa perché abilità abbiamo sempre quelle purtroppo facciamo niente armi al collana protection cioè fa uno più uno anche via sì ok va bene qua si può andare lì non vado perché ci sono i cani cioè oddio dopo spucchiamo anche dall'altra parte potrebbe anche essere la strada giusta fatemi vedere lì qua che c'è una porta con un un'insegna del fuoco vi ricordate voglio vedere se quella lì era magari quella giusta ok perfetto oh quanta roba ci ha dato dobbiamo arrivare a mille adesso siamo a 744 perché abbiamo tanto lontani terzo distretto vediamo se è dal terzo distretto oh ma qui è cambiato un po' di cose esatto ecco lì ops vabbè sono stati bravi oh cazzo ebbè sono quelli normali più so che se cosa cioè normali sono quelli più forti adesso siamo in tre combattere combattere è meglio no si mi stanno facendo quello lo stesso poi insomma oh wow quanta roba mi ha dato la miserica è scocinna anche com'è eccoci qua eccoci qua la mogione ti viene curato mi do una magia eh paperino arrivo ci preoccupi lei sono bravi però eh che cos'è opla senza testa ok 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 e poi arriva arriva c'è problema mi esploro un po' il posto dai sapete la roba non mi dispiace prendo ok non mi fai l'applauso eh mi raccomando ok vai 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 tu di botte che dopo ci pisciamo dopo ok non so cosa cosa serve più di botte più di però qualcosa servirà no ok ci sto capendo una macchia se devo essere sincero non so se effettivamente abbia la procedenza un petto o un altro però insomma adesso viene eh sì salta mostri finendo le botte però mi stanno affitturando quindi insomma sto facendo un braccio come una casa ok sembra che qualcosa stiamo facendo eh quello di paperino a meno c'è l'unico mago che c'è quindi presumo sia tech i micuni ok vai 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 perfetto è rimasto solo quello dai level no tech scusate non so cosa sia ok come on 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 se avessi una barra di vita il uos non mi dispiacerebbe godino capito se faccio qualcosa faccio solo il pirla insomma così non capisci così a caso ok vorrei fare il pirla di vita grazie se è possibile ok è arrivato solo quel pezzo penso che siamo andati bene ok ho fatto un livello o qualcos'altro paperino ma cosa mi fa lei un cuore ho tenuto sangue blu è un anello un ninnolo ah beh sono sicuro chi ne lo sa ah beh ma bisogna i campi per aiutare i aiutare i aiutare i aiutare i aiutare i aiutare sora fai con loro soprattutto se vuoi hai amici hai amici sì penso ma ma non non volete a fare un'amici capito 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 non capito non piacito ok ok? si, devi sembrare divertente come noi oddio santo paolino papirino ok abbiamo dei nuovi compagni e dove siamo? che piccola lo scorto chi ha pensato? così è la potenza il bambino non è la sua perché non lo scuola non lo scuola che abbia fatto e i ragazzi sono i ragazzi sono tutti ragazzi con la vista di loro tu non è un giro si, ci sono ahahahahah si, ci sono enough la chiamata ha chiuso lo ha chiuso se è lui che conquista la scuola o se la scuola lo spiegherà in ogni modo può essere abbastanza utile non mi ricordo se è quella di bianca neve quella di in quel posto non mi ricordo li ho riconosciuti tutti assicurati di essere pronto per il viaggio che ti aspetta non sappiamo quanto lontano siano arrivati gli Earthless contro i negozi della città hanno delle cose niente malo questi sono da tutti poi non a te questi sono da tutti noi oddio oh che cosa gradita splendidi come credi più opportuno splendidi insomma splendidi questa è da parte di Leo una visiera ottimo buona fortuna spero che tu possa trovare i tuoi amici guardatevi le spalle e su di Morales insomma la gunship oltre quel cancello ok quindi devo andare al primo distretto è possibile salire sulla gunship e dai cerchi calma è possibile salire sulla gunship dai cerchi di energia apri il menu salvataggio e selezioni a gunship non tutti i cerchi di energia permettono di salire sulla gunship ok dove c'è il cerchio per salvare ti permette di andare anche lì la cosa è la nostra nave aspetta di vederla un momento Sora questo è per te ho ottenuto forza del fuoco ha presa magia file ma io non avevo detto che rinunciavo alla magia seleziona magia per usare le magie per usare velocemente configura i pulsanti selezionando modifica dal menu utilizzando le magie si consumano PM se si usa lettere o si distruggono i nemici è possibile ripristinare i PM ora puoi usare le magie anche tu Pippo dagli quell'altra cosa cosa lo sai oh si Sora ha preso abilità destrezza si possono usare le abilità attivandole alcune abilità sono automatiche oltre si usano premendo X altri scusate attiva le abilità attraverso il menu abilità attivando le abilità si consumano gli AP le abilità ti permettono di fare un sacco di cose ne apprenderemo molte durante il nostro viaggio d'accordo è tutto andiamo non finchè non ti saremo non finchè non saremo pronti oh beh sta per iniziare una grande avventura credo che tocchi a me a notarlo sul mio diario ok tante cose magie ok ne ho usato a metà ovviamente oggetti pozione attacca attacca normale e adesso voglio vedere un attimo ehm paperino cosa fa questo aumenta solo il pv e l'attacco questo servirebbe più a me che a paperino sora questo qui diventa la difesa io metterei quello lì ehm no non me lo dai ok ah era questo l'ha messo qui ah ma io posso portare tanta roba a quanto pare c'è qualcosa che non capisco allora qui ho ok questa è la roba che posso selezionare e mi va bene basta io ne posso portare due adesso devo a paperino mettiamoli questo va bene pippo per adesso non abbiamo niente si attacchi un po' al casso ok allora abilità paperino pippo pippo razzo interessante ah c'è anche l'abilità di gruppo sora c'è scivolata scan cosa fa visualizza il pv attuale dell'obiettivo ed è automatico cioè è passiva ve lo dici in automatico eh tuffati e rotola per schivare un attacco premendo x mentre sei in movimento ah questa è molto bella allora simulata abbiamo detto che per adesso non ci serve disattiva eh proviamo lo scan e vediamo come va poi dopo vedremo dai modifica sono per il fire y e la x invece non c'è un cazzo ok è tutto chiaro bene ah scusate c'era qualcosa che non ho letto grillario oddio la storia fin qui e ci dovrebbe dire tutto quello che è successo che poi mi leggerò quale vuoi leggere più avanti personaggi personaggio 1 sora che siamo noi ci dirà tutto su di noi il nostro amico kairi è la nostra amica che lo devono trovare il re sarà topolino paperino paperino è paperino insomma insomma pippo e pippo non c'è poco da dire mini vabbè mini ecco noi siamo paperina anche e basta qui non c'è in Italia non c'è pluto che il cane 42 addirittura chip e chop 56 qui ah ci sono anche qui e dove cazzo non li ho visti come fate a non vedere quico qua le scopre ma se le ha messe vuol dire che io sbaglio le ho viste fare a fantasy 7 avevo ragione infatti mi sembrava strano e lei è del 7 anche lei lo sapete che non mi la ricordo proprio io ah si questa è del 7 non dell'8 lui invece è dell'8 ok adesso raggiungiamo infatti avevo detto che lei era del 7 però non riuscivo a quadrarla questa è del 7 anche lei questa è del 7 anche l'8 c'era anche se il presidente il presidente era dell'8 panna fantasy 10 ah ok selfie era dell'8 avevo ragione era selfie lei e porca miseria questa è del 10 che giocava sempre pallone e questa qui del 3 e altri scusate ma bisognava guardarlo vi lo parlate vabbè si sa che è di Pinocchio non ha bisogno di spiegazioni Shadow che sono gli Heartless ok soldato sono quelli che il boss c'è andiamo dark side l'altro scuro ah quello del sogno di più che avevo affrontato e questo è il secondo perfetto dovremmo averli visti tutti ottimo penso che il grillario siamo a posto posto io direi che ci possiamo anche fermare qua ragazzi per questo video è tutto vedete come al solito lasciate un like commentate se mi piace la serie di farmi sapere che ne pensate vedete sempre sotto la cima ciao ciao